E quando la socia era a Samarita, e chi le ha dato gli spaghi, e chi la socia, e chi le ha dato gli spaghi, e chi la socia. E quando la socia era in maridrata, gli spaghi, e chi la socia è spasciata, gli spaghi, e chi la socia è spasciata. Ma quando la socia era a vera guerra, arrochina in colla e faccia in terra, e poi non c'è avanza questa vergogna, faceva una ballata con la zampogna le marocchine passano ad un fronte che passano a biglia, una balla in fronte che passano a biglia, una balla in fronte che passano a biglia, una ballata con la zampogna di affari, di chiacchiere, insomma aspettavamo la liberazione ma che stai a farmi tancia stai a ragione ma che stai a farmi tancia stai a ragione come spostati che sei l'angelo mio spostati anni ti vuoi ci teniamo solo di camposante non facciamo una rabbia per niente oggi oggi è una buona giornata io sono scopente io sono scopente io sono cinque io devo dormire la notte invece di fare il gioco di gioco mi piace proprio tu che sei una bezzocca questa è tutta amica perché i figli sono grazie a reddita io lo so che c'è una bezzocca ma per scelta tutti quelli che mi piacevano sì sì io tenevo una filannanza a casa da e me ne fosse piaciuto eh finisci io volevo litigare proprio oggi che è domenica finisci la litigare oggi è domenica signor c'è tutta la piazza bene venite io andiamo a sentire la messa io andiamo a sentire la messa io andiamo a sentire mattina le piazzariccia qua 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 che parruccia questa miseria che non mi posso mancare è fatto fare una cica di sani bianchi e una cica di carne si la carne tutta e ma qua teniamo la caglina che ci servono per l'uomo la pecora ci servono per il latte e per la lana ma quando è la carne? ehm facciamo la cucina aspetta un attimo eh vedi che stai bene? ma tu ma quante costano però? niente andò è stato buono grazie a tutti non la parola non accompagna saluta la signoria andò se non va all'asterino oh andò ce la sei fatta è l'ora che te stiamo aspettando dai che un po' comincia la messa forza metti a bene ciao buona domenica grazie andò andò buona domenica buona domenica buona domenica grazie ciao non ci vi ci com'è in ora vi ringrazio, che ora arriva Agnale Dragali che non ci passiamo a messa grazie Giannale grazie, buona volta ciao forza civile ragazzi vabbè, allora buona domenica a tutte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ma diciamo che è scaturita dalla visione di questo quadro presente in Ciociaria una tecnica particolare che adesso lui vi descriverà è un quadro del pittore di fine ottocento Filippo Indoni dal quale abbiamo preso spunto a un prodotto ad olio per guadagnare anche alcuni soldi parliamo di artisti anche Kerozen, delle tecniche particolari per cui il volto della modella è ritratto grazie a tutti 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 grazie a tutti